Ciao Filippa, oggi volevo raccontarvi quando da ragazzo facevo merenda dove studiò Giordano Bruno, notoriamente morto, bruciato vivo, sul rogo. E certo, lo sappiamo, sì. Infatti io, quella merenda era un toast al bacon alla piastra, nei snack di metà mattina invece era una cotoletta carbonizzata, che consumavo in ricordo ed omaggio al martirio di Giovanna d'Arco. Mi sono sempre sentito vicino alla forza irriducibile dei martiri. E questo è comprensibile. Io mi ricordo che era la scuola che firmava la giustificazione per stare assente da me. Allora io trascorrevo molto tempo frequentando la mia famiglia, andavo sempre a pranzo da mia zia, e mentre come tutti i bambini costruivo con il Lego un'aula bunker, lei mi disse che uno dei cuccioli suoi di cane era morto. Oh mamma mia, poverina, poverina, lei l'avrà consolata. Mi colpì molto il cane morto. Sì, morto. E allora le chiesi, e zia, ma io quando morirò? Beh, i bambini se le fanno queste domande. E poi gli altri nove cuccioli quando moriranno? Ecco. Mi ricordo che poi andava a cena da mio nonno, che amava giocare a 3-7 col morto. E questo lo portava a giocare su un tavolo all'obitorio, con la presenza di un cadavere autentico, appena arrivato per mano della camorra. Ma mamma mia, ma scusi, ma... Ho ancora il caro ricordo delle colazioni a casa di un'anziana prozia. Qualcosa di allegro, la prego. Invece delle sfogliatelle. Eh. Io, mi hai portato le sfogliatelle? No. No. Ti ho portato i bossoli caldi caldi, appena sparati, che trovavo lungo la strada, che mi portava a casa sua. Un po' di leggerezza. Con questa prozia, mi ricordo che morì il pesce rosso. Ma una roba che non c'entri la morte. E allora chiese alla vecchina, tu, zia, quando morirai per un malore nella vasca da bagno? Ma non può torturare i parenti così, scusi. È inevitabile che la memoria mi rimanda alle pizzate a casa di un cugino di mia madre. La prego, sì. Mentre lui tagliava le marinare, gli facevo le domande sull'amore. E gli chiedevo, ma tu pensi che l'amore ti circonderà quando sarai all'ospedale, pieno di tubi, più di là che di qua? No, vabbè.